Mi sto già registrando eh, quando vuoi tu. Ah, ti devi registrando, no, mi raccomando, vissi la prossima volta. Sì, così. Vabbè. Va bene. Mi fa male stare, mi fa male stare così tanto tempo senza registrare. Gioia. Lasciamo stare. Oh cavolo, sono in survival. Non dovrei essere in survival, o forse sì. Eh, vabbè. Game, mod. No, metti di nuovo il paese pacifica. Io ho sbagliato, comando. Game, mod, adventure. Ah, ok. Infatti, perfetto. Quando vuoi, indaglio pure. Ah, mi piace vedere le scene che ti compagno del petto. No, sai come? Le stelline? Le stelline? C'ha le particelle, attive. Ma la faccio tu io, io ho fatto il lag della tua volta, ma vabbè. Se ti dicessi che ho appena registrato la Zeus, con le impostazioni al massimo. Tutto al massimo. La Zeus è la, cos'è, la shader, la Sonic Eater, la più bella, la più pesante. E così rispondere io. Me l'ha detto anche, me l'ha detto anche nulla. No, guarda cosa si sponde io. Ecco, si sta scaccolando su di me. Ma che scaccolando? Mi sono soffiato il naso. Eh, perché dal naso che cosa esce? Vabbè, dai. Questa è una bella domanda, eh. Vabbè, dai, basta. Per favore. Dai, iniziamo. Chi inizia? Io te? Quello che vuoi. Ti sto guardando negli occhi, quindi puoi fare quello che vuoi. Va bene, inizia che c'ho più scritto. Ah, allora. Vuoi se mi chiami, no? No. No. Ecco. Ma allora, dai, anche più lento. Faccio kick e P e mi... No. Perché P ci sei anche tu adesso. Vabbè, c'è una stanza. Eh, eh. Dai, allora iniziamo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio della Admin2Map Light in the Dark. Siamo sempre con Patman. Ciao! Tu non sei quello dell'ultima volta, però. Giusto, ho cambiato account. Anzi, me l'hanno regalato, ma sono dettagli. Perché voi vedete magari il video dopo un paio di giorni, no? Uno dall'altro. Ma l'ultima puntata, l'altra puntata, l'abbiamo registrata che era nel 2013 ancora. Sì, ancora nel 2013. Eh, va bene. Però la 1.7 era già pronta, perché il server non l'ho neanche modificata. Eravamo ancora alla 1.7.2, no? Sì. La 1.7.4 era ancora beta, diciamo. C'era la 7.3 forse. Va bene. Comunque. Va bene. Allora, dobbiamo andare avanti, in teoria. In teoria sì, ma abbiamo due libri che hai tu. Eh, sì. Che ci danno le istruzioni per aprire questa cavolo di porta. Ah-ha. Place the light or the horizon and walk away from it. Light. Turn under the light in the sky, shadow. Va bene. Proprio... Stai sotto la luce. Uno è stai sotto la luce. E l'altro è, ehm... Tieni, guarda, guarda la luce in fronte e vai dalla parte opposta. Quindi... Non avevamo le leve una volta? No. Eeeh... No. No, no. Poi citeremo, eventualmente. Toh. La luce là sopra. Là c'è la luce di fronte. Non è che dove dobbiamo mettere le leve. Ma lui ci dice, cammina nel buio, ovviamente. Che faccio? Camminiamo? Andiamo. No, io sto qua. No, tu vai là. Tu vai là. No, questa mappa è bastardissima. Ok, io vado a recuperare il pezzo dell'altra volta. Sto camminando nel nulla. No, nel nulla. Oh! Che cazzo... Che figata! Cosa? Eh, vieni. Ma Dio! Lì c'era un buco, comunque. E sono anche... Sono attualizzata. Così, giusto per... Eh, va bene. Qua. Buongiorno. Buongiorno. Ora, se tu cammini nel nulla, seguimi. Ma cosa? Tu, ecco. Non fa dettagli. No, no, qua. No, aspetta, quando ricordiamo il video dell'altra volta, vediamo un po' se avevamo delle leve. No, noi ce l'avevamo, delle leve. Avevamo le leve! Sicuro? Vieni dentro il tuo account, lo sicuro di avere delle leve. Ma qua c'è una scala. E dai, ecco il paese. Certo, la scala, come no? Allora. Allora, fammi vedere dove cavo sta il video dell'altra volta. E il video l'abbiamo già caricato. Quello è il bello. L'abbè caricato... Tipo nelle vacanze di Natale? Ma sì. Allora, sotto la luce cammina dalla parte opposta. Allora, quindi dovrei andare di qui. E qua ci sono le scale! Cosa le scale? Ma porco... Non mi fate bestemmiare. Ci sono delle scale qua. Aspetta, mi sta appartenendo il video, chiudi di... Ma io sono sicuro che c'erano delle leve. Ma le avevamo già usate, forse. Ma per cosa? Per aprire le porte prima. Ma la porta è la sbattuglia da Mosconi. Vabbè, dai, andiamo. Ma c'è una leva? Dove è qui? Mi ho definito. Aspetta, aspetta che c'è paura. Aspetta, sono qui. Ma dai! Non ci vedo. Eh, senti, io mi sono sottito nella l'entrata. Vieni da me e facciamo uno spawn point alla vecchia maniera. Ah, sì. La vecchia atti in quello di maniera, dai. Ma sto ne vuoto. Dove sei? No, sto qui davanti a te. Ma io non vedo... Val che del tipee. Allora, spawn point. Spawn point, perfetto. Dov'è? Qua. Ok, ora ti vedo. Attiva la leva. Ok, io c'ho paura. Aspetta. No, grazie, eh. Ok. Non si sa mai che ci sia un command block con... Chioccio la P. Il più vicino che sei tu. Quando the light had you... Segui la luce... Intestate... E troverai la scia e andrai fuori. No, forse ho tradotto male. Aspetta, là c'è qualcosa. Ok. È un cheat shift, mi sa, però, in sta mappa. Eh, infatti. Noi non stiamo cheatando. Oh, cavolo. Guarda giù. Ah. Ah, vabbè. Aia. Oh, sono aperte le porte. Così, per magia? Sì, era la leva che hai tirato. Non l'avevi mai detto. L'oscurità... È densa. E può... E può essere annientata. Wow. Wow. Mi sta emozionando. Vabbè, andiamo. Ho tolto il maiuscolo, se no avrebbe fatto click diecimila volte. Ok. Eh, aspetta, eh. Perfetto. Perché abbiamo fatto lo spawn point là su, sopra il cielo. Quindi. Ah, giusto. La luce è su e giù. Qualcosa da schippare. Quindi qualcosa da saltare. Sì, ma le mie bestemmie stanno sia in cielo che in terra. Quindi. Allora. Vai. Vai, vai. Io ti aspetto qui. C'era qualcosa... Orca miseria. Mi sa che dobbiamo fare come stai dicendo qui. Aspetta. Ah, allora. Poi, sei a te. Ah, io sto di lato. Sì, infatti si blocca. Quindi qui c'è... Ma dai! Oh, c'è un blocco vuoto. Uno, eh. Ok. Qui dovrei scendere. Perfetto. Quindi qui saltiamo. E stiamo fermi qui. Qui ok. Non so che cosa ho fatto, ma... Vedo un blocco invisibile. Davanti a me. Va bene! Ora vado al cazzo di cane, ciao. Oh, ce lo sto facendo pure! No, come l'ho detto. Perché parli? Ma non lo so. Non è colpa mia. Orca miseria. Ce l'ho fatta! 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 Dove sei? Ops! Eh, ma allora sei bastardo, eh! Ti voglio bene, dai. Sì, sì, anch'io. Oddio. No. Va bene. No dai! Ops. Ma proprio ops? Pochi cheat mi dicono. Shh! Sai che se dovessimo giocare una mappa vecchia non so più i comandi? Sto morendo da freddato. Perché sono andato oltre? Come ho fatto? Ma che cazzo? Ah, sì, perché i blocchi invisibili una volta erano le porte. Non so che cosa sto facendo. Aiuto! Allora. Andiamo. Ho della glowstone. Un momento che sto morendo da freddato. Wiii! Ok. Oh, porca miseria. Eh, chi se ne dei cheat? Ok. L'oscurità si avvicina. Le sei chiavi aspettano. Le chiavi ma porco! Aspettiamo. Io sto qua ad aspettare. Va bene. Beh, stiamo aspettando, no? Sì. Ah, fanculo. Allora. Porca miseria. Tutte le volte cammino sul nero. Sì, lo so. Parecchio squalido. Eh, già. Oddio, che cos'è sto coso? Eh, lasciate l'onore. Aspetta, allora, la strada più semplice è... Qual era? GameMod 1 o 2? Te. Ok. Aspetta tu. Ho detto, t'ho visto partire cal 3, ho detto. Ma che cazzo? Ah, scusa. Eh, stava moleccando, Black. Mi sono scontato di mettere le seconde. Tranch. Oddio. Un momento. Ok, dai. Oddio. C'è un problema. Quale? Dovrebbe esserci la Gloston sopra di me. Ah, no, aspetta. Sei pazzo. Fatelo dire, caro mio. Io sei pazzo, eh? Sì. Olè. Vaffanculo. Sono nella croce. Eh, perché ci sei andato? Vaffanculo sto andando. E quindi? Cioè, ma io non ho idea di come ci si arriva laggiù. Meno male che ho detto che editerò un po' sto video, perché se no... Eh, meno male. Altrimenti è un po' noioso. Porca miseria. Ti giuro, non sto capendo niente. Segui la luce, ti dicevano. La luce. Nel. La luce. Nel. Ma dai, ho indieteggiato di un passo. Un passo indieteggiato. Oh, no. Oh, miseria. Eh, che cavolo. Sei morto? Sì. Ah, no. Io non muoio mai. No, hai sentito lo spawn punte là? No, guarda la chat. Dove sono morto? Ah, sono io che sono morto. Sì. Va bene, sono solo dettagli. Strada sbagliata. Ma che cazzo? Ah, no. Ma che cazzo? Perché c'è un secondo me qua? No, che sei solo tu. Oddio. Ha laggato così tanto che l'ho rivisto me stesso. Eh, infatti... Ah, ok. Secondo me l'oscurità. L'oscurità mi viene per il culo. Sì, esatto. Se ti dicessi che alla fine devi fare un salto da tre e se lo sbaglio ti tocca rifare tutto il parkour? Ipoteo è il peggio bestiemi in questo video che dovrai editarle al massimo. Sì? Mi divertirò a mettere i suoni. Porca miseria, io che ero al posto dello shift e stavo premendo il control per correre. Coglione. Sì, lo so. Se facessi tipo... Tutto di fila? Eh, pazzia. Pazzia? Questa! Eh, spata! Poco! Bene! Io sono malato. Leggermente. Di testa o di... Va bene. Va bene, dai! Ora... Mi prende per il culo. Dovrei andare di qui. Ok, quindi qui c'è un buco. Di solito sono tentato a entrare nei buchi tranne stavolta, però... Perché parliamo di buchi e tu mi stai dietro? Vai avanti, ti prego. Ti prego. Dai, cosa ti succede in questo video? Non sei mai stato così. A meno quando lo registriamo. Sarai contento che ho centrato il buco? Ma non lo so, ma guarda. Ah, non lo so io. Sì. Dov'è che dobbiamo andare? Ah, di là. Perché questo bastardo non mi ha fatto saità? Oh, cavolo. E ora? Dovrei andare in quella direzione. Dai, mi sto per teletrasportare da te. Ti teletrasporta... Ci sei arrivato lo stesso. Non bestemmia, guarda. Perfetto. Ma lo ha si stocca. Lì c'è il buco. Ok. No, no, non chiude. No! Il nostro... Non può neanche morire. Vaffanculo. Allora, facciamo. Come ha quel comando? Kill, Padman, 1999. No, no. Due. Ma vaffanculo! Sì? Il kill. Lava bucket. Perché fa luce? Non fa luce! Ed è anche lento, quindi lasciamo stare. No, no! Stavo per salire qua sopra, deficiente! Toh, vieni. Così so che lì c'è anche un blocco. In che senso? Ho posizionato l'acqua su un blocco. Lo dico, in che senso vieni? Va bene. Allora, lasciamo stare. Allora. Oddio, ci ho avuto FIFA! Ti ho visto che eri lì? Allora. Dai. Tanto siamo arrivati fin qui, eh. E quindi mi dai spawn point? No. Dai, io faccio spawn point. Ma dai! Ma se mi ti vuoi fare una mappa così tutta eccitando? No, solo il parkour. Ah. Ah, eh, eh. Questa mappa è tutta parkour. E tu mi dai retta, quindi. Non sei colpa mia. Ehi, è lui che citta, non io, quindi. No, seriamente. Io mi sono dato la stonna caduta. Ok. No, io non sto accitando. Ok, qui c'è un blocco invisibile. Dai, questo salto lo facciamo, vero? Sì. Non mi ha saltato! Vaffanculo! Buco di vera! Tiriamo la leva. Una parte dell'oscurità è stata distrutta. Eh, una su sei. Vaffanculo! La cosa bella è che potrei anche morire, ma ho settato lo spawn point qua. Vai, vai. No, ma allora sono proprio stupido anch'io. Andiamo a far culo di... Ciao. Insieme? Sì, c'ho lo spawn point fuori! Guarda che gentile che sono. Dimmi che qua c'è il vuoto. Sì, lì c'è il vuoto. Ciao. Lui sceglie le stanze, però va bene. Sì, ok. La luce... Ah, può essere divisa dall'oscurità. Infatti, qui... È separato. Devo stare. Io non voglio guardare. È una stupidata questo. Ma vaffanculo allora, scusa. Ecco, adesso guardate che cade. Muoio male, ciao. Ciao. Sei ancora vivo? È... È veramente una cazzata. Ma è tutto qui? Eh, no, aspetta. Senti aprirsi una porta in distanza. No, seriamente! E potevamo tagliare dritto! Ma vaffanculo! Io ti odio. Ah, ora capisco i cartelli. Là c'è una luce. Vabbè. Quindi, prossima stanza, qua. Stiamo scherzando. Non mi carica il chunk. Cambiamo stanza. Ma no, sto scherzando. Andiamo, dai. Sì, ma a me non carica il chunk. Il punto è... Ah, ecco l'evo. È a nostra sinistra. Ma dobbiamo fare il giro dell'oca. Non ci sono enderman? Non ci sono mob. No, dico. Un enderman avrebbe fatto comodo. Perché? Beh, sai com'è. Eh, vabbè. Sono concentratissimo. Che gli venisse un po' di bene al creatore a mettere il blocco singolo alla fine. Ma vaffanculo! Ciao! Non ci credo. Dove bisogna andare? Oh, ciao. No! Ma perché? Non hai detto che ero morto? No, stavo... Stavo... Senti, vai a quel cavolo di paese. Ti faccio benedire dal papa. Dai! No! Tutta di fila ero riuscito! Ehi! Ma dai! Non posso uscire lo shift e poi morire. Tutta di corsa, 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 tutta di corsa. Iiii! Fermati! Io ci ho trovato almeno. Ci ho trovato. Eh, ma io mi fermo sempre ai blocchi singoli. Porca miseria. Vale! Sia lei un cazzo. No! Sono scivolato! E mi sono disfattato da terra! Sai qual è la cosa più brutta? È che anche il ghiaccio è invisibile. Ah! Che? È buonissimo il cazzo della mappa di cancro proprio. Ok. Vai. Oh, oh, oh! Poche ce la fa! Poche ce la fa! Poche non ce la fa! Ecco signori. Che c'è dentro lui? Io pure scemo che mi tenta spot. Non ci credo. Sono qua vivo. No, scusate, eh. Questa me la dovete concedere. Oh, scusate, 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 mi sono arrivato qua. Ah, una parte dell'oscurità è stata distrutta. Di nuovo. Ciao! Ciao! Per una volta sono contento di morire. Per una volta. Stavo la prima. Allora, ne abbiamo fatto uno, due e tre. Sì, è possibile che sta mappa... Eh, tutte le porte aperte. Tre ne abbiamo fatte. Questa è la quarta. E l'acqua. Ok. Hai un fight tra l'oscurità e quello che vuoi. Non guardare mai indietro. Ma che cazzo? No, non guardare. È guardato. Però non vedo niente. Quanti passi mi toccano i text to pick. Oh, porca miseria. C'ho la fight full, c'ho la misa, c'ho la spax. Io c'ho la 3D ma funziona. La 3D? Sì. Che text to pick è? Eh, tutti gli oggetti in 3D per gli Snapchat della 1.8. Ah. Ma è tutto detto? Eh, per quello. Aspetta, ma io sto camminando a cosa? No, oddio, non vedo più dietro. Ho paura, è tutto buio. Ah, ma mi sto muovendo? Sì, mi sto muovendo. Sto guardando te perché sei l'unica cosa che mi rassicura. Come sono messo male, cioè, proprio. Oh, vedo, vedo qualcosa, vedo qualcosa. E mo cade, mo cade, ti scommetto che cade. No, 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 non sta caricando il chunk. Orca miseria, l'ha caricato. Seriamente? Ah, tu sei lì, perfetto. Todo, avete mia skin da cubo mentitore? Oh, luce. No. Coglione. Ma mi sto muovendo. Sì, sì, ti stai muovendo. Ehi, non vede più luce. Gli endermen sono paragonati agli slender. Oh, luce da una porta. Ti sei illuminato, come hai fatto? Come cazzo? Dove sta la luce qui? Ecco, ma penso... Dove sei? Ah, ecco, ti andavo. Sono qua. Tu sei qui dove la per forza di lì? Ecco la porta. Ah, di qua stava qua. Oh. Una parte dell'oscurità è stata distrutta. Almeno ci ha portato indietro, grazie. Ecco, appunto, dai, andiamo qua. Poi taglieremo tutto insieme perché tanto... Ovvio. Magari nei fatti più noiosi velocizziamo. Io mi ritiro. Ma di nuovo? Ma seriamente? Ma no, ma no, ma... Ma no, ma... Dai, io faccio tutto di fila. Ciao. Ma vaffanculo, chi ti è muerto, no? Metto la croma, dici che va bene? La croma è il? Ma sì. Ma sì. Quella per le fede. Sì, ma laggerò. Cioè, laggo con la light in the dark. Figurati se non laggo con... Eh, sta crasciando. Oh, oh, oh! No. L'avevo così fatto. Oh, porca miseria. Senti, io metto... Io cambio in text to pick. Non si può fare in questo modo, dai. È ghiaccio! Pore! Ghiaccio! Senti, io cambio in un attimo text to pick perché io non ne posso dire questo. Sì, sì, no, ma io non mi calo, io mica l'ho cambiata. Ah, no, eh, scusi. Oddio, è tutto ghiaccio! Eh, ma allora che sono proprio pirla, eh. Porca miseria. Dai. E non è che sto cheatando. No, no. Questo non è cheat. È solo cambiare text to pick. Esatto, si può fare anche in un server, eh. Quindi non si può... Non è cheat. Aspetta, fermo. Che c'è? No, niente. Una parte dell'oscurità è stata distrutta. E muodiamo tutti insieme e... Rimettiamo... Togliamo la croma. Interessante. Oh, l'aggo di più con questa che ha solo il ghiaccio e il vetro invisibili che non la croma che è una 128. Ma va bene. Eh, ci siamo capiti. Ok. Sai che se per caso una leva non l'abbiamo tirata siamo fregati? Oddio. Ci sono due strade, una destra e una sinistra. Eh, non c'è... La luce cambia da sinistra a destra. Stai attento. Ah, ora ho capito. Quindi io vado qui. Invece posso continuare. Non è finito! Non me lo diceva! No, dai! Io odio. Per caso bisogna fare 10.000 km per fare questa cosa. Va bene, basta... È tutto allo stesso piano, basta shiftare. Quando vedi che non shifta più devo saltare. Eh, metti che senti che... Non passo più avanti. Allora, lì c'è la Glowstone. Lì c'è la Glowstone, quindi dopo non dovrebbe esserci niente. Mannaggia a me che ci succede a questa mappa. Me l'hai proposta tu, vorrei ricordare. Eh, che ho detto io? Che ti odio. Non ti senti neanche. Sei invecchiando. Sei parecchio. È il parkour, io ero tanto contento. Non farò mai parkour, avevo detto. No, no. E pensa che devi calcare quella mappa Pacquo bastandissima. Che fino ha fatto la mia? È scomparsa tre o quattro formattazioni fa del computer. Ah, no! Devo saltare! Già. Signore, se vi ammettete cambio text to text. Stavolta mettiamo una più bella, tipo... Misa. Ecco, salto da due blocchi. Bravo. Ce l'ho fatta. Misa a me non piace, se da essere sincero. Non so perché. Mi piace a tutti, a me no. Vabbè, la listica cosa vuole. Capisci. Eh, allora c'è... Cosa ci sono altre text pack? Non me lo ricordo. Va bene, sei bloccato la registrazione. Sì, tranquillo. No, dico, sei bloccato proprio Minecraft. Ah, no, che ha fatto. Dai, andiamo avanti. Oh. Sì, 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 vai, vai. Che, morire in questo modo, se... E come... Beh, è proprio da molla. Sì, molla sta lavorando a tre mappe. Ah, bene. Io ho fatto 10 FPS con la Zeus e tutte le cose al massimo. Anche con 30 chunk di distanza. 10 FPS. Lui ne fa 20 con tutte le cose al minimo. Quindi sta un po' arrancando. E c'è caponella, mi dicono. Sì, sì, ma leggermente. Sta un po' arrancando, eh. Gli dà fastidio che ho preso la scheda video nuova e basta. Beh. Bene. Può di cambiare text su pecco, ma vabbè, fai niente. Spero che la porta sia aperta. No, non è aperta. Ehm, che abbiamo sbagliato. Aspetta. Vado a prendere già testate. Give Patman Pickaxe Eh, diamo... No! Gold! Gold? Pickaxe Cosa gold? Sbagliato. Come il cavolo si scrive Pickaxe? Ah, lui è anche il survival. Hai finito? Ci sei quasi? Forza? Ehi! Ah, le... Uh, mi ha pure dato la porta. Non ho neanche tolto i droppi. Aspetta, vieni un attimo. Che tristezza. Sì? Vieni un attimo. Ah, mamma mia! Dimmi. No. È bello però sto effetto di luce, eh? Vabbè? È davvero figo. Ipo da cinema. Più che altro... Cosa ho visto là? Ehm... BL0. Quindi i mob spawnano lo stesso, barca miseria. Ma che? Dove siamo finiti? Siamo fuori! Abbiamo finito. Oddio, lì già? L'episodio erano... Due. Oh. Oh. Io esploro, mi piace. Anche perché... Ho... Ho una scelta attiva. Ho un papavero! Ho un papavero! Come un papavero! Sì, deve essersi rotto da solo. Perché sono in... Boh, io non ho rotto niente. Io credo che sei stato in creativa per un momento, eh. Io? Sì. Ma non posso rompere niente. Tu sei in survival! Vabbè, dai, tanto che ormai avevo finito. Peccato, però un po' mi manca... No, non è vero se è una mappa di merda! La prossima volta faccio un adventure map. Ma proprio adventure, non come questa. Sì, ovvio. Ma io la voglio con la 1.8 e con i command block che dici che voglio io. Cavolo. Eh, se non mancherebbe altro. Eh, cioè... La mia altra mappa... Sky Park Series Ender Game 1 e 2. Parkour Hero. Beh, per me non avevamo una texture pack come questa. Esatto. Va bene una modificata apposta, ma non modificata così. Quindi? C'è un fiorellino giallo là, se vuoi andarlo a prendere. Là dietro? No, questo è Peter. Che tenero! E anche Peter. Che tenero che sei! È tenerissimo! Che la luce sia sempre con te, fino alla fine degli anni. Ehi! Basta! Eh? Pensa, nella 1.2 non potevi fare sta cosa, dovevi riscrivertela tutta. Mappa dai... Aspetta, cosa... La mappa da Mirjuks. Aspetta, cosa hai detto prima? Che la luce sia con te, fino alla fine dei tuoi giorni. Anche questa può essere con me. Tu che dici? Eh, che modo... Sì, perché no? Ma... Neanche un calo di FPS. Anche io cosa chiedi... E intanto mi ha... Si è stoppato la registrazione. Complimenti. È crashato FAPS, non il gioco. Non mi è crashato FAPS, io ho stoppato un attimo per non far vedere l'ipida e il server. Vabbè, tanto... Sai come funziona? Domani, fra 5 minuti, quel server non esiste più. E anche questa mappa esisterà più. No! Allora... Divertiamoci così. Via! Via! Dove sei? Che cazzo però esplodi? Ah no, stai esplendo ma il check non è caricato, ok. Summon... Ma l'affanculo! Ma l'affanculo! Prime, TNT... Ops! Laggo! Perché? È esploso tutto! Cosa stai... Stai distruggendo qualcosa. Ma che? Niente. Va bene. Che c'è? Stai un po' laggando, eh. Ma che? No, non succede niente. Che hai fatto? Ma che? Niente. Ma che cribbio stai facendo? Io? Niente. Ah, giusto. È vero che sono nella 1.7... ...punto qualcosa. Ci sono i comandi! Ci sono i comandi! Ora. No, prima cosa. Togliere la ressource pack. Giusto. E vediamo com'è il mondo nella realtà. Uno schifo. Lei marrone. Neanche nero. Ho preso la marrone. No! Ti prego, fai i tippi da me. C'è... Ok. C'è da bestemiarci dietro sta cosa. Ah! C'è da bestemiarci. Oh, un villaggio! Un villaggio! Un villaggio! Ciao! Tu cosa mi vendi? Niente di che... Oh! C'è il fabbro! C'è il fabbro! Una spada... Oh, di ferro! Fanculo! Quanti golem di ferro! All'è! All'è! Muah! Muah! Ora... Ah! Vediamo un po'. Così la X aumenta. Quindi... Summon... Summon... Prime... TNT... TNT... Ci sono i clock infiniti... Anche questo vuoi semplice se ci metti qualcosa sul mouse. Che triste! Ehi, io ho tolto, eh! Perché non l'ha? Perché non funziona? Perché non... Perché non... Ah, non lo so! Perché? No, non funziona proprio più il command block. Ah, adesso si spiega tutto. Dai, schifo, clock. Che dici, finiamo qua? Sì, finiamo la di fare anche gli stupidi... È una mappa... Avrei detto che durasse 10.000 anni. Cioè, abbiamo rinviato sta cosa a 4 mesi. Perché... Appunto! Siamo quasi ad aprile... E... No, probabilmente uscirà ad aprile. Sì, molto probabilmente. Perché comunque siamo a fine marzo. Esatto. Eh sì, anche perché c'è una programmazione abbastanza lenta, quindi... Io c'ho la bezza di 3.6 da portare avanti, quindi... Muah! E allora possiamo... Mmm... Una volta alla settimana. Facciamo tutti le domeniche. Vabbè, questo poi ne parleremo tra di noi. Perché state ascoltando voi che guardate il video? Mettete mi piace e andate via. Già, via. Sta ancora qua? Adios. Oh, mamma mia. Sta gentaglio, ma guarda che... Che cavolo è stato ancora... Oh, ma stanno ancora a guardare! Ancora! Ma guarda che afferma! Attaccati a testo cef. È frusto, cazzo. C'hanno risposto, c'hanno risposto. No, no, ma grazie, ma... Va bene. Allora, mentre voi state guardando... Ciao. Uh. Ciao. Ah, già che c'ho il mantello figo. Uh. C'ho il mantello figo. Mi regali un mantello da Optifine? Eh? Mi regali un mantello da Optifine? Sì, volentieri. No, io ti regalo questo. No, ma guarda, te lo regalo benissimo. Regalami quello del... Del Minecon, grazie. Va bene, signori. Mentre... Questa era la mia risposta, comunque. Attaccati a sto ceppo anche tu. Questo era tutto per... Questa mappa. Spero che vi sia piaciuta. Se non vi è piaciuta, ve la facciamo piacere noi. Eh, veniamo a casa vostra. In che senso, però? Mh? Con la macchina? Eh, sì. Vabbè, dai, finita. Non ce la posso fare più. Va bene, esatto. Noi ci vediamo al prossimo video, che chissà quando uscirà. Magari... Non so, i story 2. Vedremo cosa sarà. Sì, caro mio. Sono cinque mappe. Piuttosto muoio. No. Ho visto della TNT. Vado ad esploderla. E noi ci vediamo alla prossima... No, alla prossima puntata, al prossimo video. Alla prossima copp. Alla prossima copp. Quindi, ciao a tutti. Ciao a tutti. Che saluto squallido. Qui da Padman e da Pokécraft è tutto. Un saluto dall'All Club. Ciao a tutti. Ciao. Questo è figo. Mappa di Mada. Perché non si stoppa la registrazione? Oh, non si stoppa la registrazione. Ti vogliono bene il tuo programma di... i miei 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 cuocatori. Che minchia stai facendo!? Grazie.